Sono gli anziani i fragili in questo momento ad essere bersaghi facili per truffatori dell'energia. Questo è il grido d'allarme che arriva dal presidente di ANAP pensionati con fartigianato Arezzo, Angelo Galletti. Con l'aumento delle tariffe, i truffatori, precisa, sono sempre pronti a cogliere l'attimo. Le loro vittime preferite siamo sicuramente noi anziani, ai quali vengono prospettati i contratti con tariffe scontate, ben cosci di quanto sia importante per noi avere una casa calda d'inverno e degli ambienti freschi. Anche in rete però la truffa è dietro l'angolo, prosegue Galletti. Nonostante i nostri sforzi per fornire competenze digitali ai nostri associati, non è semplice sfuggire alle truffe e ai reggiri quando si annidano ovunque. ANAP, con fartigianato Arezzo, lancia dunque l'allarme e raccomanda sempre di non dare alcun consenso ad alcuna proposta contrattuale e soprattutto non fornire alcun tipo di dato personale. Vi ricordo che il gestore della rete conosce benissimo il codice del contatore, precisa Galletti, mentre non lo conoscono i truffatori. Mai dare i propri riferimenti, il codice fiscale e tantomeno i dati bancari. Dobbiamo essere forti e attaccare la cornetta. Confartigianato Termina ha attivato uno sportello presso la sede di Beatiziano a cui si sono rivolte già tantissime persone, non solo imprese ma anche privati e dove possono essere dati consigli utili su come ottenere risparmi sui costi di luce e gas. Grazie. Grazie.